La pop star smentisce le indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza con un video su TikTok, citando Taylor Swift, e la canzone, Down Band. Contesto, Lady Gaga, la celebre cantante e attrice, è stata recentemente al centro di voci e speculazioni sulla sua vita privata, in particolare riguardo a una presunta gravidanza. Tuttavia, la pop star ha recentemente smentito queste voci con un video su TikTok, in cui ha citato la collega Taylor Swift, e la canzone, Down Band, del disco, Tortured Poets Department. 1. Le voci sulla gravidanza di Lady Gaga. Sottotitolo. Pettegolezzi sul presunto stato interessante di Lady Gaga, sono iniziati dopo la sua partecipazione al matrimonio della sorella Natali Germanotta. Le voci sulla gravidanza di Lady Gaga, sono iniziate a circolare dopo la sua partecipazione al matrimonio della sorella Natali Germanotta. La cantante indossava un abito nero molto aderente, ed è stata più volte fotografata mentre sembrava volersi coprire l'addome con le braccia. Questo atteggiamento ha fatto sì che molti iniziassero a pensare che la pop star fosse incinta. Tuttavia, la diretta interessata ha smentito queste voci poche ore fa con un video postato su TikTok, e successivamente con un tweet pubblicato su, in cui ha ribadito lo stesso concetto. 2. Lady Gaga e il desiderio di diventare mamma. Sottotitolo. La cantante aveva dichiarato in passato di essere entusiasta all'idea di diventare mamma, ma al momento non è incinta. Nonostante le voci sulla sua presunta gravidanza siano state smentite, Lady Gaga aveva dichiarato in passato di essere entusiasta all'idea di diventare mamma. In un'intervista rilasciata a InStyle nel 2020, la cantante aveva dichiarato, non vedo l'ora di diventare mamma. Non è incredibile quello che possiamo fare? Possiamo tenere un essere umano dentro e farlo crescere. Poi viene fuori, e mantenerlo in vita è il nostro lavoro. Da quattro anni la cantante è sentimentalmente legata all'imprenditore e genio matematico Michael Polensky, e qualche mese fa era stata vista sfoggiare un vistoso anello di diamanti, circostanza che aveva rafforzato l'ipotesi di una gravidanza in corso. Tuttavia, stando a quanto dichiarato oggi, non esiste alcuna gravidanza. Lady Gaga ha quindi smentito le voci sulla sua presunta gravidanza con un video su TikTok, in cui ha citato la collega Taylor Swift, e la canzone, Down Bed, del disco, Tortured Poets Department. La cantante non è incinta, ma ha dichiarato in passato di essere entusiasta all'idea di diventare mamma in futuro. Al momento, tuttavia, non ci sono notizie sulla sua vita privata in merito a una gravidanza in corso.